Ripercorreranno la linea del fronte da Cimagrappa al Piave, a Nervesa fino a Vittorio Veneto, simboleggiando il viaggio delle migliaia di giovani caduti verso quel traguardo che rappresentava anche la fine della guerra. Sono i Fanti impegnati nel pellegrinaggio sulle orme degli eroi, che darà inizio alle manifestazioni del 34esimo raduno nazionale dei Fanti. Un raduno altamente simbolico e commemorativo, quello di Vittorio Veneto, nel centenario della fine della grande guerra, all'insegna della memoria dei tanti ragazzi che in questa terra hanno perso la vita. Questo gruppo chiamerà a raccolta tutti i caduti e dirà loro venite con noi, venite a Vittorio Veneto, perché non siete giunti da vivi, noi vi accompagneremo da caduti. Sembra quasi di sentire gli scarponi di questi nostri caduti che seguono questo gruppo e si porteranno con questo gruppo a Vittorio Veneto, pronti a sfilare dietro le proprie brigate. E degli oltre 529.000 caduti censiti nella grande guerra, ben 359.000 era costituito da Fanti, che pagarono quindi il tributo più pesante in termini di vite spezzate. La fanteria carne da macello, il 68% dei caduti, quindi un altissimo tributo di sangue. È giusto ricordarlo perché sembra a volte che questo dato sia dimenticato. Invece dobbiamo dare onore a questi giovani che volenti o nolenti sono caduti per noi.